ben ritrovati nella mia home gym vi vado a mostrare questo prodotto che ho acquistato su aliexpress ad un prezzo di un euro e 10 spedizione inclusa link in descrizione lo trovate di diversi colori e trovate non solo questo come vedete sono due palline unite con al centro diciamo questa specie di incavatura ma trovate anche le palline singole che costano di meno serve per massaggiare i muscoli del corpo sostanzialmente io lo uso per la zona cervicale come vedete la parte incavata la posizionate nella zona della colonna vertebrale potete da sdraiati o anche da seduti contro la parete andare a muovervi e diciamo massaggiare rilassare la zona muscolare va bene anche per i polpacci va bene per molti altri muscoli e devo dire che è davvero un bel prodotto e a questo prezzo ne vale la pena si tratta di un poliestere leggero diciamo che è simile al sughero al tatto e al polistirolo non al poliestere scusate e diciamo pieno anche all'interno non è vuoto quindi anche schiacciando non non si va a piegare e rigido un ottimo acquisto se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela ci vediamo alla prossima review